Sei nata con la guerra. Grazie all'Europa hai vissuto nella pace. L'esperienza di studio a Malta ti sta aprendo nuove opportunità. Con i cantieri europei hai trovato un lavoro. Grazie ai fondi comunitari hai avviato la tua impresa. Un'azienda italiana ti ha offerto un lavoro a Parigi. È stata dura, ma ora sei molto soddisfatto. Oggi, in Europa, puoi vivere, viaggiare, lavorare dove vuoi. Con l'Europa unita puoi dare un futuro ai tuoi figli. L'Europa è anche tua. Il 9 maggio è la festa dell'Europa.